Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninet1 in Ingegneria Gestionale Indirizzo Produzione della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninet1. Con Uninet1 l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più www.uninet1university.net. Uninet1. Nel futuro. Da sempre.